benvenuti amici a un nuovo video dalla macchina e bene sì mi piace fare i video in macchina perché non c'è nessuno che a parte tutto il traffico che mi disturba sì so che avete notato il volante per l'ennesima volta è di lochitti sì e anche la macchina è rosa sì e tutto quanto rosa e tutto quanto ci sono mille gaccia di lochitti non vi faccio vedere il copperspecchietto peloso perché sarebbe troppo anche per gli amanti di allochitti ma sorvoliamo su questo perché oggi questo video c'è solo vale e niente simo come ultimamente succede perché sono simon è molto impegnato e importante in quanto sono riprese le sono riprese le riprese della serie boaty boy c'è il secondo capitolo della la seconda stagione della serie boaty boy è in lavorazione ovviamente ci sono anch'io sono uno dei personaggi principali e quindi oggi non sto girando è il mio giorno uno dei nostri giorni liberi e quindi faccio dei video così senza simo disturbo un po su youtube i fan di cute and chic o boaty boy non so se simo pubblicherà questo video anche sul canale boaty boy in quanto ci sto per dare degli spoiler e questo lo faccio perché perché no simo mi spoiler sempre tutti i telefilm e io spoiler un po il nostro ok in questa nuova serie le cose cambieranno radicalmente ci saranno personaggi che compaiono scompaiono ricompaiono o che cambiano addirittura orientamento sessuale questo è uno dei dei fulcri inquisite che della serie e oltre ovviamente a tutte le avventure sentimentali di alex alex in questa serie è affronta grandi cambiamenti e nuove sfide sia lavorative che emotive che sentimentali ancora più intense della prima stagione e molto più articolate arturo cambia radicalmente vita e nuovi personaggi verranno introdotti che diciamo sconvolgeranno totalmente la vita di arturo a alex e victory ma soprattutto della vita di loro stessi perché venire in contatto con questo gruppo di persone che fanno parte della serie boaty boy li ha portati a tantissimi cambiamenti a trovare nuove strade e nuovi modi di approcciarsi alla realtà alla vita ovviamente totalmente folli quindi buona musica e buone inquadrature questa volta ancora migliori inoltre abbiamo degli sponsor famosissimi come l'Archigay oltre che gay tv a il tundra e saremo protagonisti saremo presenti anche al sarmo e pride di rimini probabilmente tenetevi forte il cast di boaty boy farà delle serate il che è veramente favoloso non tanto per voi che magari non non me ne frega niente di vederci ma per noi che abbiamo i nostri tre secondi di celebrità da viverci insomma e così dai insomma adesso siccome non si potrebbe registrare i video mentre si guida perché come si sa è pericoloso bisogna stare attenti alla strada vi mando un grosso saluto perché sono già più di quattro minuti che vi sto stressando quindi dalla vostra vale che in nella serie è victory vi mando un saluto e vi pubblico sotto il link della playlist della prima stagione di boaty boy così se volete fare un ripassino prima dell'uscita della seconda potete passarti potete fare mi piace seguirci su facebook e soprattutto potete vedere anche il trailer di boaty boy stagione 2 grazie mille un bacione da victory che in realtà si chiama vale